Musica Nome e cognome Mirko Esposito Sei nato a Fidenza Il 8 aprile 96 Soprannome Espo Segni particolari Cappelli lunghi Cappelli lunghi Beato te Cos'è il pallone per te? Il pallone È tutto ciò che mi circonda La prima tua partita Te la ricordi? Certo Qual era? A Fidenza Avevo 10 anni Tanti quindi? Sì sì Ho iniziato a tarpi E contro il Milan Club Ho fatto doppietta Doppietta Quindi all'epoca giocavi Giocavo contro Niantaki Ah Questo è un grande scopo Giocavi davanti quindi Giocavo centrocampista centrale Centrocampista centrale Sedi in camera di chi avevi il poster? Espo di chi ce l'hai tuttora Calciatori Di Dani Alves Ah di Dani Alves Il momento più bello O quello più brutto Dal calciatore sin qui? Il più bello Quando abbiamo vinto lo scudetto Con tutti i ragazzi E il più brutto Quando abbiamo perso Un torneo L'anno scorso Che abbiamo perso Contro il Ponte d'Era Che torneo era? Un torneo a Firenze A Firenze? Sì a Firenze Il Parma Il tuo primo giorno a Collecchio Te lo ricordi? Ci lo racconti? Sì sì Sono entrato Ho visto questo centro Quanti anni avevi? Avevo 11 anni E ho visto tutti questi campi E' stata un'emozione Che si prova una volta nella vita Il compagno con cui leghi di più? Il compagno è Niantaki Il mio compagno preferito Senti l'obiettivo di quest'anno Della squadra? Arrivare ai playoff Arrivare quindi alle finali Perché abbiamo le possibilità La differenza rispetto all'anno scorso Il campionato primavera Rispetto a quello allievi Com'è? Ed è molto ampia Sia a livello fisico Che a livello tecnico Te l'aspettavi così difficile? Eh sì Perché tutti ne parlavano Che c'era tanta differenza Senti se devi scommettere Un euro su un tuo compagno Che diventa Un calciatore importante E famoso Su Martínez Su Martínez Martínez E su un tuo pregio E un tuo difetto? Il mio pregio Simpatico Il mio difetto Che faccio I scherzi Troppo pesanti E quindi la gente Si arrabbia Del tipo? Del tipo Uno che succede Molto spesso Sotto alla doccia Che io metto l'acqua calda E si arrabbiano spesso E quindi mi picchiano Il tuo film preferito? Non ne ho film preferito Non guardo la tv Guardo solo calcio Nell'iPhone invece Cos'è che non manca? Non manca il rap Ad esempio un cantante? Eminem Se non diventi calciatore Cosa fai nella vita? Il muratore Il muratore Come mai? Perché è un lavoro umile Che rispecchia anche mio padre È un gran giocatore È un gran ragazzo Espo è un grande giocatore È un grande nostro tessino destro Tessino destro Quindi è un grande bravo ragazzo Si impegna all'allenamento Tutto Fare i complimenti Per lo studente che sei È uno studente modello Sei un buon giocatore Bravo Hai personalità Buona tecnica Però a volte ci metti troppa sufficienza E devi migliorare in questo Secondo me Sono a tutto Cioè ha delle grandi qualità E se ascolta a me farà Farà grande cose Sono sicuro Esposito Esposito ha dei bellissimi capelli Non li deve mai tagliare Difetto Che a volte non mi ascolta tanto E fa finta di non ascoltare E non prende tanto Le responsabilità Che si devono prendere in campo Spesso rompe le palle in campo Spesso e volentieri Troppo Del tipo? Del tipo Sempre che urla Chiama Quindi io devo stare libero A volte perdo un pochino la testa Però ci sono io A dirgli sempre le cose Perché come le facete con la copertura Va bene Però Sull'incieme Fa sempre bene Dai Destro Sette Sinistro Cinque Colpo di testa Due e mezzo Oh però Da due al tre Velocità Velocità otto dai Tecnica Sette e mezzo Marcatura Sette Senso tattico Quattro Dani Alves Maiconos Sergio Ramos Uno Abate Maggio Desciglio Due Baggio Totio Del Piero Due Turan Benarrivo Cannavaro Due Lucarelli Parolo Cassano Due Conte Ancelotti Mazzarri X More Biondo Rosse Due Ah Rosse Questo è una sorpresa Allora Fatta Beleno Kuni Solito interrogativo Uno Uno Rap Musica italiana Musica inglese Inglese Due Due Single Impegnato Relazione complicata X Ah impegnato Con chi Possiamo salutarlo Sì sì Jessica Ti saluto Perfetto Ragazzi qua Gossip A manetta Basket Tennis Automobilismo Uno Tiffy Per Una squadra NBA Ti piace I Lakers I Lakers Italiano Matematico Storia Nessuna di tutte Anche perché oggi Preso possiamo dirlo Quattro e mezzo In matematica Perfetto Fantastica Pollino L'altra volta Non si ricordava Di Olle Benji Te te lo chiedo Oliver Atto Mark Landers O Julian Ross Uno Sprite Coca Cola Fanta Due Culatello Parmigiano Torta fritta X Facebook Twitter O Instagram No no Nessuno di questi Nessuno di questi Quindi vai ancora col telefono Tu fai ancora Perfetto Chi vince il campionato La Serie A Juve La Champions League Real Madrid Pallone d'oro Ronaldo Il mondiale Spagna Chi vince il campionato Primavera Torino Torino Come non il parlo Noi vinciamo alla fine Se vinci il campionato Però prometti di Rasarmi a zero Sicuro? L'abbiamo detto Sicuro Quante bugie hai detto In questa intervista? Troppe Troppe? Fai un saluto Nel tuo dialetto Voi usci Vi rimane Non è di Fidenza Questo è il mio dialetto Napoletano E invece in parmigiano Come li saluti? Non lo so Il parmigiano Non lo sai? Si vedo Madman T haben Si E quindi Il parmigiano Si vedo Il parma Lui Le Lui Pag Lui Lo Lui Il Lui